Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il flash serale di Latina Press. Apriamo subito con una notizia di cronaca. Latina, incidente stradale questa mattina poco prima delle 7 all'incrocio tra via Romagnola e viale Le Corbusier. A scontrarsi all'altezza dell'incrocio due automobili, una Lancia Y e una Fiat 500, la seconda si è ribaltata. Due persone sono rimaste ferite ma fortunatamente non in modo serio. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Latina. Latina, scarcerati Travali e Giordani, non era una staffetta per la droga. Ieri la decisione del Tribunale del Riesame. Il 26 gennaio scorso alle porte di Latina, intorno alle ore 18, gli agenti della squadra mobile arrestavano tre pregiudicati di Latina per il possesso di 1,1 kg di cocaina purissima. La droga era custodita nel cassetto portaoggetti dell'Audi A2 condotta da Antonio Giovannelli, mentre la Smart con a bordo il cognato Angelo Travali ed il Giordani li precedeva nella classica staffetta usata per gli ingenti quantitativi di stupefacenti per aggirare i controlli. Nella tarda serata di venerdì è arrivata la decisione del Tribunale del Riesame di Roma, che con un'ordinanza disponeva che gli indagati Angelo Travali e Davide Giordani dovevano essere rimessi in libertà immediatamente e l'ordinanza di custodia cautelare del GIP annullata per assenza dei gravi indizi di colpevolezza. Soddisfatti i difensori Cardillo, Cupo e Zeppieri che hanno punto su punto contestato l'impianto accusatorio. Dichiarazioni Lotito e Bufera di Giorgi, grave offesa alla città di Latina. Nota congiunta dei sindaci di Latina e Carpi sulla frase di Claudio Lotito. Giovanni Di Giorgi e Alberto Bellelli hanno voluto diffondere anche una nota congiunta in relazione alle parole del presidente della Lazio e consigliere della FIGC Claudio Lotito. Le frasi di Lotito offendono le due città ma anche le intere comunità di territori molto attivi e di grandi tradizioni sportive e culturali. Il calcio deve andare avanti con regole dettate dalla meritocrazia, non con i diritti TV e non con oscure trame di palazzo. Non possiamo essere giudicati da Lotito sulla base dei diritti televisivi. Sette quintani di pigne rubate dal Parco Nazionale del Circeo in manette e quattro indiani di Sabadia. Il gruppo è stato sorpreso dai carabinieri di Sabadio intorno all'una di questa notte a bordo di un'auto sulla miliara 53. Gli arrestati, tutti i residenti a Terracina, avevano in macchina cariche di pigne circa 700 kg asportate poco prima dagli alberi dell'area naturale protetta. Fondi, maxi sequestro di prodotti carnevaleschi, 1800 e gli articoli di provenienza cinese potenzialmente nocivi e privi del marchio C'è che la Guardia di Finanza di Fondi ha sottoposto al sequestro. I militari, nel corso di un servizio a contrasto del commercio di prodotti potenzialmente dannosi per la salute, hanno effettuato un attento monitoraggio nel territorio al fine di individuare esercizi commerciali presso cui tali articoli erano stati posti in vendita. Grazie alle informazioni raccolte anche con l'ausilio del nuovo sistema informativo anti-contraffazione, sono stati individuati circa 1800 articoli destinati ad essere utilizzati durante il carnevale che non rispondevano ai requisiti di sicurezza e conformità necessari alla commercializzazione. Passiamo adesso alle notizie sportive. Il Latina finalmente rinasce grazie a Viviani. Pescara ha battuto 2-0 con una stupenda doppietta. Il primo gol realizzato sul Rigole, il secondo un destro dal limite dell'area. Passiamo adesso agli aggiornamenti meteo per la giornata di domenica. Giornata probabilmente piovosa, massima 13 gradi, minima 8 gradi. Vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo il nostro sito www.latinapress.it e la nostra app disponibile su dispositivi Android ed Apple. Buon proseguimento di serata.